Da 0 a 7 a Vienna al crollo di Maradona, la Juve, le 10 sconfitte da Incubo. Benvenuti nel canale. E se ami la Juventus e vuoi rimanere ben informato sulla Juve, iscriviti al canale e clicca il campanello in modo da non perderti nulla. Ci sono notti che non si dimenticano, per il motivo sbagliato. Sconfitte così brucianti che meritano non a caso un'accezione particolare, non solo per la pesantezza del passivo ma anche per modi e momenti in cui arrivano. Ecco le peggiori della storia bianconera. Impossibile non inserire il risultato peggiore ottenuto dalla Juventus, nel turno preliminare di Coppa dei Campioni, il 1 ottobre 1958 al Prater di Vienna. Dopo il successo dell'andata per 3 a 1 a Torino sul Winnersport Club, il ritorno doveva essere più agevole. E invece si rivelerà un incubo, un 7 a 0 senza appello caratterizzato dai 4 gol di Ameri, che resta tuttora un passivo mai replicato. Grazie a tutti. Grazie a tutti.